Il Consiglio Comunale di Montorio Alvomano ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo polo scolastico a cura del Politecnico di Milano. L'idea è quella di riunire in un'unica sede la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che fanno parte dell'istituto comprensivo Montorio Cronialeto. Costo di 15 milioni di euro, una struttura che la nostra comunità attende da troppo tempo, oggi i nostri ragazzi sono in strutture degli anni 60. Ieri abbiamo votato la localizzazione che rimane al centro di Montorio, la viabilità, l'accessibilità, mobilità dolce per tutti i ragazzi, addirittura c'è un circuito kiss and go, i genitori lasciano il figlio, bacio e vanno a scuola, tutti i percorsi pedonali, ciclo pedonale e poi questo meraviglioso progetto dove è presente anche un auditorium, dove è presente la biblioteca, dove è presente la mensa, dove è presente una palestra B1 coni, quindi dove si possono fare anche attività agonistiche e tornei, c'è delle strutture, una struttura che vive la mattina, il pomeriggio, tutto il giorno, non solo per la scuola, quindi i ragazzi di elementari e medie, ma anche per la comunità. Sul fronte della rigenerazione urbana il consiglio comunale ha anche votato favorevolmente a un altro progetto che cambierà volto a Montorio, la nuova piazza verde del valore di circa 1,4 milioni di euro che sarà realizzata con fondi complementari al PNRR, ma questi sono solamente alcuni dei progetti messi in campo negli ultimi mesi dall'amministrazione guidata dal sindaco Fabio Altitonante. Una città che deve cambiare faccia, Montorio ha sofferto i due terremoti 2009, 2016, la neve, 3.000 persone erano fuggite da Montorio, nell'ultimo anno per la prima volta negli ultimi dieci anni c'è stata un'inerzia contraria, cioè si è bloccata questa fuga di Montorio, dobbiamo andare avanti a proporre ai cittadini una Montorio diversa, una qualità della vita che parte anche dalla mensa gratis della materna, che parte dall'asilo gratis all'asilo nido e che parte da un nuovo modello di scuola e che parte anche da tanti spazi verdi. Montorio, apertura del parco, porta del parco non aveva nessun parco urbano verde e ieri abbiamo votato la piazza verde, quindi non solo il polo scolastico, piazza verde di Montorio, ma anche adesso la seconda parte del finanziamento, i 3 milioni per avere il collegamento diretto tra la piazza verde e la piazza Orsinice, il centro storico.